Buongiorno, oggi vi voglio insegnare un esercizio che serve soprattutto per dare mobilità alle spalle. L'abbiamo chiamato l'esercizio della lampadina. Provate a immaginare di avere tra le vostre mani una lampadina e che dovete avvitare o svitare. Quindi avvito, svito, avvito, svito. Ovviamente non tenete contratti i trapezzi, state proprio belli rilassati e iniziate l'esercizio. Avvito, svito, avvito, svito. E piano piano allargate le braccia. Avvito, svito, avvito, svito. Fino a portarle in alto, in alto. Una volta arrivati al massimo cercate di andare in alto. Avvito, svito, avvito, svito. Ok, perfetto. In questo modo state non solo sbloccando le articolazioni delle spalle ma state lavorando anche con i muscoli dei trapezzi e la schiena. E poi pian pianino ritornate nella posizione originale e finite con una bella avvitata e svitata muovendo bene anche tutta la colonna vertebrale. Questo esercizio è particolarmente utile non solo per le spalle ma anche per chi soffre di disturbi ai trapezzi e alle cervicali. Grazie, arrivederci.